vediamo come poter accedere al particle flow come di costitudine dal pannello create particle system possiamo scegliere p flow e generare un'icona in viewport premendo e trascinando fino a qui nulla di nuovo ma vediamo come è costituito il pannello modifier e quali sono i roll out presenti setup con la possibilità di abilitare o disabilitare l'emissione delle particles e l'accesso al particle view il quale parleremo prossimamente emission con emitter icon dal quale possiamo determinare le dimensioni del logo la tipologia di icone e quindi anche della forma dell'emettitore ed abbiamo a disposizione rettangolare di default cilindrica e sferica le relative dimensioni se mostrare o no il logo e l'icona quantity multiplied group divide in due parti le particles visibili sia in viewport che in fase di rendering ovviamente il valore percentuale e per la voce render sarà sempre al 100 per cento se non in casi particolari in cui l'utente può scegliere tranquillamente modalità differenti selection roll out consente di selezionare le particles o singolarmente per evento o per id questa tipologia di selezione non viene praticamente mai effettuata ma vedremo un piccolo esempio anche su tale tools system manager roll out questo roll out è molto importante perché consente di gestire al meglio le particles sia in viewport che in fase di rendering ovviamente con le nuove workstation questa serie di parametri sembra inutile ma in realtà risulta molto comoda in ogni caso upper limit consente di stabilire il valore massimo di particles applicabile ad un sistema di default il valore è 100.000 il range va da 1 a 1 milione attenzione che volendo possiamo utilizzare anche oltre 10 milioni di particles per un sistema ma tutti gli eventi sono limitati ad un minimo di 5 milioni questo sarà più chiaro con un esempio pratico ma vi preannuncio che esistono sistemi alternativi per poter gestire o renderizzare oltre i milioni di particles che sono comunque molte integration step group è come viene interpretato in fase di viewport e di rendering le particles passo dopo passo nelle versioni precedenti alla 2014 i particle system sfruttavano solo un core pur avendo a disposizione 2, 4, 8, 16 core disponibili quad core i7 o dual seon e così via e quindi risultava molto difficile riuscire a gestire grandi quantità di particles sia in fase di viewport che di resa finale al momento non tutte ma gran parte delle operazioni sono state migliorate per poterle gestire oltre ad abbassare la visualizzazione in fase di lavoro viewport era necessario anche avvelersi di un'analisi visuale differente quindi di una interpolazione più bassa di default troviamo viewport uguale frame render uguale half frame questo significa che in fase di lavorazione viewport l'analisi sarà su ogni singolo frame fotogramma in fase di resa finale rendering sarà considerata la metà del frame quindi un'unità ancora più piccola volendo possiamo curare di più o di meno tali valori andando a scegliere range più alti o più bassi ma di default attualmente è un buon compromesso finale script rollout consente di accedere tramite mask script alle particles e di gestirle in altro modo ovviamente vedremo un piccolo esempio senza approfondirlo troppo poiché il mask script non è tema di questo videocorso grazie a tutti